Il professor Girardoni è sicuramente stato per me personalmente e per tutte le utilities in Italia un vero mentore data la sua capacità vulcanica di produrre idee di visione ma anche concrete per portare a terra progettualità che indirizzassero la pianificazione di settore verso nuove frontiere sempre all'avanguardia a livello non solo italiano ma soprattutto europeo. In questo senso l'ascito che ci dà naturalmente è quello di spronarci a fare, a ragionare, essere sempre positivi nella nostra visione, cercare sempre il buono e le opportunità nel futuro. Sono molto contento che questo lascito sia stato pienamente colto dai suoi ragazzi definirei quelli di Agici che rimarranno per noi un perno centrale anche per il futuro.